Carissimi all'ascolto di Telefonia, ben trovati a Missione Mondo. Ecco, vado subito a presentarvi gli ospiti, le ospiti di quest'oggi. Abbiamo innanzitutto Ornella, poi accanto a lei c'è Debola, e poi abbiamo Luisa e Anna Maria Armanino. Ecco, ben trovate. Bene, e con loro andiamo a trattare un argomento particolare che ci ha preso anche tanto tempo in passato, ma che veramente merita di essere sempre ripreso, cioè l'argomento delle migrazioni. E lo facciamo anche aiutato da una presenza, da una presenza non fisica in questo momento, ma comunque reale, cioè la presenza di padre Mauro, che appunto ci ascolta e ci segue dal Niger. Lo facciamo, dicevo, presente perché abbiamo uno dei suoi ultimi libri, ecco, il libro La città sommersa. Ecco, questo libro che è stato recentemente presentato a Casarza, vogliamo riprenderlo, riprenderlo e anche, soprattutto, Corriere, qual messaggio a partire da questa immigrazione ci viene da padre Mauro. Ecco, subito, intanto, Anna Maria, ci puoi inquadrare il titolo proprio, ecco, di che cosa si tratta? Sì, La città sommersa, il mondo altro dei migranti, i minatori del mare. Già questo titolo ci introduce in un aspetto direi anche un po' drammatico di queste migrazioni, dove chi tenta e prova a partire troppo spesso la cronaca ci ricorda che affrontano invece un viaggio che a volte ha un fine piuttosto drammatico e difficile, sto parlando appunto dei morti nel mare. Allora, a questo proposito però, mi rifaccio volentieri invece a quello che ha scritto Mauro su questo, che ha dato il titolo al libro e dice così, i sei bambini dell'ultimo naufragio si sono presi per mano per darsi coraggio. Sono scesi assieme nel limbo del mare che custodisce la città sommersa. Lì si gioca a nascondino tra i relitti delle navi e le bandiere delle nazioni europee. Ci sono leggi a parte e un Parlamento composto solo da donne e bambini. La presidenza è a turno e solo per organizzare feste tra amici. Alcuni hanno cominciato un campionato di calcio parallelo. Non ci sono perdenti e in porta gioca una ragazza che indossa la maglia del Gambia. Gli spettatori sono migliaia e l'ingresso è gratuito per tutti. Nella città sommersa non si chiedono documenti e la cittadinanza è riconosciuta senza alcuna formalità. Alla domenica c'è chi va a messa prima di essere libero per il resto della giornata. Negli altri giorni invece sono disponibili un paio di moschee che sotto voce invitano alla preghiera i fedeli che preparano il pellegrinaggio marino. Nella città sommersa c'è sempre una luce accesa anche di notte, un faro subacqueo che indica la rotta da seguire per arrivare al porto seguente. Sembrerebbe una situazione di passaggio. Mi sentirei di dire che anche l'immagine che è messa sulla copertina del libro esprime tutto questo. C'è un mondo là sotto in tutti questi anni che si è andato formando e che ci interroga su noi, sulle nostre vite e quindi anche se apparentemente siamo lontani ci sono dei figli che ci legano a queste persone che prima di tutto e dire se sono profughi, rifugiati e altre etichette che si possono mettere, bisogna dire prima di tutto che sono persone. Questo è molto importante davvero. Il libro è anche una restituzione proprio dell'identità a queste persone che tante volte noi attacchiamo delle immagini, per noi sono migrati, sono grandestini, sono questi, ma per padre Mauro c'è tutta una storia, ci sono dei volti, c'è una vita e poi dicevi giustamente che tanto ci lega con queste persone perché gli umani siamo veramente legati tra di noi. Ecco, andiamo veramente a raccogliere appunto, dicevo, questo sguardo di padre Mauro che innanzitutto ci dice riconoscete l'identità a queste persone. Ecco, il libro raccoglie anche tanti volti. Luisa, ecco. Sì, sì, sì. In effetti è un libro di storie, di persone, è un libro che dà la possibilità di conoscere ciascuno di quelli che hanno avuto la possibilità di essere ascoltati da lui e di farci capire chi sono. Innanzitutto sono persone che sono disposte a tentare il tutto per tutto, quindi a giocarsi fino all'ultimo centesimo pur di attraversare quel benedetto mare, pur di trovare la possibilità di dare vita a una vita, se così si può dire, normale, a una vita buona per la propria famiglia e molto spesso sappiamo bene che non ce la possono fare, non ce la fanno e in mezzo c'è questo deserto, il Sahel che diventa qualche volta il mare che li seppellisce, qualche volta diventa la sete che li fa morire, come per esempio in una delle prime storie dove si parla di 20 bambini, 5 gli uomini e 9 le donne, sono morti di sete nel deserto non lontano da Assamacà che puntella la frontiera tra l'Algeria e il Niger, della terra di passaggio alla frontiera, il passaggio a quella fuga c'è quella che attraversa la sete, si stavano dirigendo verso l'Algeria da dove migliaia di migranti nigerini sono stati espulsi negli ultimi mesi per contratto bilaterale ormai consumato, gli unici corpi identificati sono quelli di un nigeriano e di una nigerina, perché sotto lui ci parla anche delle politiche che strozzano le persone, che le fanno morire, pertanto diciamo che anche le connivenze vengono fuori Dio era uno di loro, ha setato pure lui, lo sapeva bene lui che coltivare la sete era un rischio per gli umani e per lui la sete è pericolosa, morti di sete come le migliaia di minori che scavano gallerie nella terra in cerca di pietre preziose affogate nel fango. I pasteur che conoscevano strade, poliziotti, gendarmi, doganieri e il deserto, anche loro hanno sete di guadagnare e non sono i soli, i politici e i commercianti sono assettati di guadagni, a ognuno la sua sete, o sete aveva gridato nella solitudine quando era uno di loro. Qui c'è poco spazio per la fantasia, è bene proprio meditarle queste cose oltre che leggerle. No, è importantissimo anche perché noi siamo abituati magari a pensare che muoiono nel mare, ma c'è dietro c'è anche un'altra realtà appunto del deserto che forse è ancora più crudele del mare, prima da quelli che arrivano già al mare pensano forse di avere già superato tanti ostacoli e poi invece affrontano ancora un altro rischio grave, mi viene quasi da dire anche quando pensano di arrivare neanche lì la vita non è facile, però questo magari un pochino dopo. Ma intanto davvero noi appunto andiamo accrescendo un pochino la nostra, come dire, lo spazio della nostra visione. Non soltanto vederli qui, ma sappiamo, stiamo tornando indietro per vedere chi sono realmente, da dove partono e che cosa li fa partire e chi sono soprattutto. Ecco, Ornella, tu a questo proposito anche tu avrai raccolto alcune storie, alcuni volti così. Chi è che ti ha colpito? Allora sì, leggo un pezzo di questo racconto che si chiama L'ultima preghiera di Junior, candidata a un naufragio. Il gommone era pronto e non c'era tempo e preghiere da perdere. I 150 candidati erano pronti al viaggio. Ognuno aveva pagato 1000 euro e il passeur che invece di imbarcarsi con loro hanno obbligato il più sveglio di loro a diventare capitano della nave di sabbia. Junior ha cercato di desistere ma in vano. Chi ha pagato per partire deve partire per sempre. Junior aveva lasciato la sua famiglia di nascosto dopo aver sottratto i soldi del viaggio. Junior dice che con questo viaggio suo padre si è indebitato per sempre. Li dispiace, non fa che mostrare una cicatrice nelle parti intime a perenne ricordo del tentativo di non pagare quanto dovuto ai ribelli. Terminata la preghiera in arabo, partono col gommone, gonfiato poco prima, passa la notte e arriva la mattina, seguente, quando il gommone si rovesce. Junior riesce ad attaccarvisi per alcune ore, tutto intorno vede i corpi dei compagni di viaggio che si allontanano piano come dormendo. Rimane l'unico sopravvissuto dell'imbarcazione fino all'arrivo di un elicottero che lancia una corda alla quale si attacca prima di perdere conoscenza, l'unico a salvarsi da un naufragio. Condotta alla frontiera con l'Algeria racconta la sua storia ai militari che gli pagano il viaggio di ritorno. Tamara Se, Arli, Agadez e infine Niamè. La notte scorsa qualcuno nella stazione dei bus e gli ha portato via quanto li rimaneva per mangiare. Senza documenti, Junior, diplomato, topografo nel 2014, vuole tornare a misurare la sua terra. Mi colpisce questo brano di Padre Mauro perché secondo me è rappresentata da tre momenti fondamentali della vita di Junior, che sono la speranza, il coraggio e la paura. La paura che ha dovuto comunque affrontare Junior per partire, soprattutto appunto per avvicinarsi all'inizio che non riusciva questa paura che si era reso conto di affrontare questo viaggio nel gommone e quindi ormai sapeva che ormai doveva partire per forza, che non c'era più via d'uscita, però la paura comunque gli era rimasta. Infatti Mauro scrive una cosa bellissima, quando lui dice la nave di sabbia, cioè perché lui si era reso conto comunque che questo gommone poteva non essere sicuro e poi la paura anche che ha avuto nel naufragio quando durante la notte il gommone comunque si è rovesciato, quindi la paura a lui di attaccarsi per non morire e vedere tutto intorno a sé, i suoi compagni che comunque hanno perso la vita e quindi questi compagni che assumano un po' il volto di persone che erano diventate sue amiche anche se non erano della sua stessa terra, del suo stesso paese. E poi c'è il coraggio, il coraggio che ha dovuto affrontare prima di arrivare a questo viaggio, il coraggio di superare tanti ostacoli, la prigionia e comunque anche di sottrare dei soldi ai suoi genitori per poter fare questo viaggio. Anche un sacrificio sicuramente perché poi c'è poi la terza parola che dicevi ma c'è tutto un sogno, c'è tutto un desiderio, c'è tutto un progetto, chissà quanto devono appunto indebitarsi, quanto devono lavorare, cercare per poter avere questi e questi soldi poi da pagare appunto perché non li portano gratuitamente, non è che sargono sui gommoni gratuitamente. Sì, infatti ha poi subito anche delle violenze, quindi il coraggio e poi per ultima la speranza. La speranza che è una cosa bellissima, quella che comunque nonostante poi lui è riuscito a sopravvivere, è riuscito quindi a ritornare, c'è la speranza di ritornare nella sua terra, nella Guinea, di ritrovare i suoi amici, i suoi parenti e soprattutto di poter provare a fare il lavoro che lui comunque aveva sempre sognato e cui si era diplomato nel 2014, il topografo, di studiare la sua terra, quindi questa speranza, nonostante tutte queste difficoltà, questa speranza alla vita. Ecco, speranza che davvero, questa è una parola molto importante sulla quale veramente ritornare e ribadire fortemente perché non è che vanno così all'avventura, hanno dei sogni, hanno dei desideri e soprattutto sogni di bene, cioè noi ci troviamo di fronte a delle persone che si muovono alla ricerca di qualcosa di meglio, di qualcosa di buono e sappiamo appunto, ci è detto appunto le condizioni nelle quali si trovano, noi ci troviamo di fronte a delle persone che hanno un sogno e un desiderio, come tutti noi, di migliorarsi, di crescere nella vita. Ecco, anche te Deborah, cosa ti ha colpito di queste storie appunto? Beh, innanzitutto devo dire che leggendo le lettere di Mauro salta subito all'occhio la sua volontà e la capacità che ha anche di riuscire a dare un valore ad ogni storia, al vissuto di ogni persona, senza panegirici e soprattutto senza processi anche. E una tra le tante storie che mi ha colpito del libro è stata quella di Girl, una ragazza resa orfana e rapita da un mercenario che poi la porterà nel suo paese di origine che al Burkina Faso. Il mercenario vorrebbe farne la sua sposa, si legge in un passo del racconto, e versare la dote a chi rimane della famiglia di Girl. Allora lei fugge per cercare aiuto da qualche membro superstite della famiglia in grana. Non trova nessuno e allora torna da nessuna parte e trova John, liberiano come lei, col quale continua il viaggio. Partono insieme per l'Algeria, lui in bianchino e lei casalinga per qualche anno ad Algeri. John si ammala e sente che la sua terra lo chiama col nome di famiglia. Ripartono e il viaggio di ritorno finisce a Niamei nel Niger. Troppo tardi per arrivare. La strada di John termina al cimitero il 25 di settembre dell'anno scorso. Ecco, grazie a Mauro, secondo me quegli occhi che come lui definisce troppe volte avevano visto ciò che non dovevano vedere, si fanno ponti e rendono proprio per chi ha voglia di ascoltarli una realtà che sembra lontanissima invece vicina. Grazie al suo racconto. Molto importante quello che dicevi, questo sguardo di padre Mauro capace di dare valore a delle lealtà, a delle storie piccole ma grandi nello stesso tempo. Grandi anche perché appunto, come dicevo, tutto questo appunto da una parte ci fa vedere queste persone, ma ci interroga anche noi stessi, su di noi, sulla nostra identità. dicevamo che le migrazioni non sono di oggi, vero Anna Maria, non sono di oggi. A volte la corpa più grande veramente di noi esseri umani io penso che sia la dimenticanza, cioè dimenticare, dimenticare, vedere un fatto, pensare che sia mai visto invece a volte la storia che si ripeta. Esatto, pure noi siamo stati migranti, noi intendo dire europei e italiani, quindi non è che, e neanche troppi anni fa, quindi non siamo estranei a questo tipo di cose e forse come loro siamo stati rifiutati al tempo, come noi adesso rifiutiamo loro, li accusiamo di invaderci, di toglierci qualche cosa. Invece, come leggevo in un commento al libro, sono portatori di una malattia chiamata vita, questi che arrivano. Può darsi invece che da queste situazioni ne possa nascere invece per noi qualche cosa di positivo, visto che l'Europa, l'Italia è abbastanza invecchiata, dicono anche le statistiche ultimamente, quindi vuol dire che non è portatrice di vita, vuol dire che al contrario non è portatrice di vita. Può darsi che invece tutta questa migrazione accompagni con essa oltre alle difficoltà che non si possono negare, a problemi che non si possono negare, porti anche veramente degli aspetti nuovi sconosciuti per noi. È molto importante questo perché appunto, io l'ho già detto, lo ristorino sempre, questa questione proprio di una identità che è restituita a queste persone, ma che ci restituisce anche la nostra, la mia. Dicevi in fondo questa malattia che li muove, che li porta a rischiare, a partire veramente senza sapere, anzi con grande probabilità di non arrivare, ecco questa forse c'è nel cuore di ognuno di noi. Diceva appunto, siamo tutti migranti in qualche modo, siamo tutti veramente di passaggio e dei posti, io personalmente per tanti motivi non c'è bisogno di spiegazione, ma anche fisicamente, ma veramente tutti siamo così. Poi appunto, da questo punto di vista, Padre Mauro ci fa vedere anche, soprattutto, le brutte migrazioni, che non sono quelle di spostarsi da un posto a un altro. Ecco, a un certo punto, Padre Mauro dice, apriamo gli occhi, piuttosto, sulla nostra società, dove stiamo andando. Ecco, Padre Mauro ha anche la capacità di, come dire, di andare un po' in profondità. Non so se avete visto, a un certo punto, Luisa, a un certo punto, Padre Mauro dice proprio, apriamo gli occhi sull'immigrazione che oggi stiamo vivendo e che non sappiamo dove vanno. Parla, ad esempio, delle migrazioni della tecnologia. Ecco, la tecnologia che ci porta, dove ci porta questa tecnologia? Che stiamo andando, appunto, lui dice, ci sono tanti aspetti della nostra vita, sulle quali dovremmo, appunto, soprattutto, aprire gli occhi. Ecco, abbiamo una tecnologia che ci sta portando verso un eccesso, non si comunica più, una solitudine. Ci sono anche tutte queste dimensioni e tutto questo, appunto, dicevo, ci porta soprattutto ad interrogarci singolarmente e personalmente. E questa è la sua grande capacità. Ora, ed è anche un modo di rimanere in contatto con noi, con noi soprattutto, e voi fate parte dell'Associazione Popoli Solidani e che, come dire, lo sostenete tantissimo. Ora, facciamo questo passaggio, appunto, nell'Associazione. Quali sono le vostre... come mantenete il legame con Padre Mauro? Sì, l'Associazione Popoli Solidali è nata a Casarza nel 1993. E' nata con un gruppo di persone che avevano intenzione di dare una svolta concreta e, diciamo, un gesto che fosse di giustizia nei confronti del Terzo Mondo. Perciò si era pensato, ai tempi, di aprire una piccola bottega con i prodotti del commercio ecosolidale che si fonda, appunto, su un atto di giustizia, che è quello di riconoscere ai lavoratori, alle lavoratrici del sud del mondo, riconosce loro il valore del lavoro che svolgono. E quindi va contro lo sfruttamento che, invece, le multinazionali, sappiamo bene tutti quanti, operano in questi luoghi, depredando materie prime e beni di ogni genere. E oltre, appunto, a occuparci a orari e tutti volontari, quel poco che possiamo fare, insomma, di cercare di tenere aperta questa piccola bottega, diciamo, con gli introiti, cerchiamo di sostenere dei progetti reali e concreti, sia nel nostro territorio, a volte abbiamo destinato alcune piccole somme per delle situazioni qua nel nostro territorio, oppure nel Terzo Mondo, sostenendo progetti, a volte anche con Madrina del Grappa, è vero, no? Con le proposte da loro. E poi, principalmente, sosteniamo, appunto, Padre Mauro nei progetti che ha e cerchiamo, appunto, di introdurre, appunto, con le nostre iniziative, sostenere i suoi progetti, mi ripeto. Ecco, e oltre a quello, appunto, cerchiamo anche, però, iniziative diverse, tipo, di incontrare persone o testimonianze, le invitiamo nel nostro paese e cerchiamo di aprire incontri per tutti, affinché possiamo, in qualche modo, crescere insieme sulla visione delle situazioni del mondo di oggi, quindi invitando persone qualificate che ci aiutino a comprendere meglio le tematiche che sono, diciamo, di attualità, tipo questa della migrazione e altri tipi di tematiche. No, qui c'è un'intuizione molto importante, che è quella, appunto, di dire non è semplicemente il fare delle cose, bisogna anche sapere veramente perché le facciamo e soprattutto il senso, aprire veramente, prima di tutto, aprire gli occhi, aprire gli occhi e aprire il cuore e poi le mani possono anche muoversi e su questo, appunto, io ho già partecipato ad alcune iniziative culturali, di ascolto, di confronto e questa è una cosa molto importante anche da fare sapere alle persone come ci si muove. Ecco, Ornella, cosa ti occupi un po' nell'associazione te? e soprattutto anche che cosa fa su di te, ecco? Beh, io vado più o meno ogni 15 giorni al martedì, dalle 4 alle 7, sto in negozio, comunque, quindi in qualche modo cerchiamo di vendere questi prodotti chi desidera comunque venire a comprarli, c'è un po' di tutto, sono prodotti appunto eco-solidali, però c'è dallo zucchero, dal caffè, anche dei prodotti di artigianato e niente, sono molto contenta di far parte di questo gruppo e lo faccio volentieri e spero di continuare ancora per un po' a occuparmene. Bisogna continuare anche perché ci vuole e poi soprattutto è davvero, a volte quello che uno dà sembra poco e piccolo, ma in realtà messo insieme poi sono tanti, quando avete cominciato sicuramente non pensavate di poter anche resistere così tanto e poi anche fare quello che avete fatto. Ecco, ritorniamo un po' e poi ci avviamo verso la conclusione e ritorniamo un pochino sul libro e anche su questa tematica appunto, dicevamo hanno un volto ma partono anche da storie, da posti di appunto, da luoghi geografici che a volte dischiamo di dimenticare, che cosa è il Sahel appunto secondo padre Mauro e Luisa? Ecco, dice questo, che il Sahel è una terra di mezzo tra due sponde e l'altra riva è andata via, le armi si fabbricano altrove e per la droga i principali acquirenti sono lontani, le cancellerie occidentali fingono neutralità e poi usano la giustizia e il diritto a geometria variabile, e inoltre dice questo, che si scaricano scorie di ogni natura e si trasforma l'Africa in pattumiera globale, persino una nullità come il Niger diventa una meta di ambito pellegrinaggio, ora ne a me arrivano tutti quelli che contano, cinesi occidentali senza dimenticare gli indiani, ognuno apporta la soluzione finale al malato cronico chiamato Niger di nome e Sahel di cognome, nel caso non l'avessero capito prima c'è un problema di sicurezza e di traffici, nulla di meglio che senza nessun dibattito democratico si proponga una risposta militare proporzionata, la Francia con i militari, gli Stati Uniti con i droni e prossimamente la Germania della Merkel per installare una nuova base militare. E qui arriviamo nella stretta attualità, del resto non è da tanto che abbiamo parlato di nostre truppe che potrebbero andare in Niger e pertanto abbiamo proprio la carta d'identità del paese dove padre Mauro opera ed è in mezzo a tutta questa realtà che lui ci fa capire da una parte storie e volti di persone e ci fa entrare in relazione con loro e dall'altra invece ci dice la realtà esattamente come è, non come ce la immaginiamo o come vorremmo che fosse e quindi ci interroga ancora di più da vicino perché ha a che fare con le scelte di tutti i giorni e le scelte civili che ogni paese opera. Grazie, grazie davvero perché appunto io vorrei, questi sono argomenti che sono delle miniere proprio anche perché come dicevamo interrogano il nostro cuore, il nostro cuore profondamente. Io vorrei concludere appunto ringraziandovi innanzitutto e poi riprendendo un po' queste due cose che personalmente mi colpiscono, cioè il fatto che veramente di imparare a guardare a queste persone non come dei numeri, senza volto, senza identità ma dare veramente una storia, restituire l'identità e il volto a queste persone, questo l'abbiamo fatto, l'avete fatto e vi ringrazio tantissimo. E poi dicevo questa restituire anche valore alle lealtà e dare nomi veri anche alle lealtà. A questo proposito ad esempio il nostro mare mediterraneo che è un dono, una cosa bella, importantissima veramente per la zona e per l'umanità e padre Mauro osa dire guardate che è diventato una fossa comune, guardate che è diventato una piazza d'affari, una piazza di economica, politica, cioè si giocano tanti interessi e anche chiedersi io come mi ci trovo e che parte gioco io. E poi questo aspetto che dicevo appunto magari anche una rilettura mia personale ma molto importante, il fatto che dice guardate non è forse la migrazione la peggiore, questa, perché ci sono tanti, ci sono tanti che si stanno operando dentro di noi e a un certo punto dice appunto che emigriamo gli uni dagli altri, cioè non sappiamo più riconoscere di prossimo, non sappiamo più riconoscere l'identità perché alla fine è questo che si dimostra dentro tutte queste storie. Allora ringraziamo padre Mauro che appunto ci ha permesso di incontrarci e soprattutto per tutto quello che ci manda, continua sempre a scrivere e questo libro appunto raccoglie le ultime sue storie e soprattutto questo sguardo che dicevo. Quindi vi ringrazio tantissimo, grazie Ornella, grazie Deborah, grazie a te Luisa e ad Anna Maria che poi sei la sorella di padre Mauro, grazie e ce la saluti veramente con tutto il cuore. Arrivederci a tutti quelli che ci seguite, Missione Mondo per oggi termina qui e ritorniamo per mercoledì prossimo. Grazie a tutti.